Benvenuti a Creazione nel XXI secolo. Sono il vostro conduttore, David Reeves. Sapete, oggi gli scienziati dibattono sui nostri antenati. Alcuni dichiarano che discendiamo da creature simili a scimmie, mentre altri dicono che tutti gli esseri umani provengono da un solo antenato, Adamo. Il titolo del programma di oggi è Adamo o le scimmie. Prima di cominciare vorrei dirti che tu non sei un caso, sei speciale e sei stato creato a immagini di Dio. Il libro di Giovanni dice che nel principio c'era Gesù Cristo che ha creato tutte le cose. Egli è vivo ed è qui oggi e ha un piano per la tua vita. Un ringraziamento speciale va alla TCI e al loro fantastico team nel permettere la messa in onda di questo programma ogni settimana. Ora è giunto il tempo per il nostro segmento di I Cieli Dichiarano. Vedete, nel 1800 c'era un autore popolare che voleva rimuovere Mosè dalla scienza. Il suo nome non era Charles Darwin. Vediamo di chi si tratta. Charles Lyell era un avvocato britannico e un geologo vissuto nel XIX secolo. Egli pubblicò un'opera di tre volumi intitolati I principi della geologia. Quest'opera promuoveva la sua idea di una terra antica, di ere geologiche e dell'uniformismo. Questa è la credenza che il presente sia la chiave del passato. Egli credeva che i processi lenti e graduali che vediamo oggi sono gli stessi processi che hanno formato geologicamente il nostro pianeta in milioni e milioni di anni. Lyell rigettò la Bibbia come parola di Dio e la rigettò anche come libro storico. Egli ha scritto che avrebbe voluto rimuovere Mosè dalla scienza della geologia. Lyell viene descritto meglio come un deista. Egli credeva in un Dio distante che non interveniva nell'universo. Quindi, senza un Dio, tutto doveva essere spiegato naturalmente. E l'uniformismo poteva dare a Lyell la piattaforma per poter spiegare quello che vediamo nel mondo senza rivolgersi a Dio o alle sue rivelazioni nella Bibbia. Presto, Lyell guadagnò il favore di un giovane ammiratore, il naturalista Charles Darwin. E a bordo della Beagle, una nave che lo portò intorno al mondo, Darwin lesse le copie dei libri di Lyell. Egli disse che li studiò attentamente e che essi avevano una forte influenza su di lui in molti aspetti. Darwin non prese le sue idee sull'evoluzione mentre cercava la verità, ma si era convinto della stessa convinzione filosofica di Lyell. Egli credeva nel deismo e nell'uniformismo. Quindi, le idee dell'evoluzione riguardo alla vita erano una progressione naturale della sua filosofia. Non era stata la sua osservazione personale del mondo che lo aveva convinto delle idee sull'evoluzione come la verità. Ma era il suo rigetto di Dio e della sua parola il fatto che abbracciò l'uniformismo, che lo portarono a idee evoluzioniste. Sempre più geologi stanno realizzando che il presente non è la chiave del passato. L'evidenza non supporta l'idea che processi lenti e graduali siano responsabili per quello che vediamo nelle rocce. Charles Lyell aveva sbagliato. Si è trattato di un ulteriore capitolo nella popolarità dell'evoluzione. La definisco l'evoluzione dell'evoluzione. Queste filosofie arcaiche sembrano contenere troppe complicazioni pseudoscientifiche nell'intento di salvare le teorie. È giunto il tempo di un approccio fresco. Sono David Reeves e veramente i cieli dichiarano la gloria di Dio. Sapete, la scienza non può sbarazzarsi di Mosè perché le parole ispirate scritte da Mosè nel libro della Genesi restano vere ancora oggi. E questo include la creazione nel principio del primo uomo, Adamo. Quindi ho invitato un ospite dell'Istituto per le ricerche sulla creazione per parlarci di questo soggetto dettagliatamente. Brian Thomas ha ottenuto la laurea in Biologia e in Biotecnologia. Ha insegnato Biologia, Chimica e Anatomia in qualità di professore aggiunto alla scuola media e in quella superiore. Brian è uno scrittore, scienziato e ricercatore per conto della Institute Creation Research. Ha scritto circa mille articoli sulla scienza e sulla creazione e ha scritto un libro intitolato I Dinosauri e la Bibbia. Quindi unitevi a me mentre diamo il benvenuto al mio amico Brian Thomas. Benvenuto nel programma. Grazie amico. È meraviglioso averti qui. Tu hai fatto molte ricerche e hai scritto molti articoli in relazione alla creazione, alla scienza e alla Bibbia. È tutto ben collegato. Ma questo attira particolare attenzione perché ha a che fare con i nostri antenati. Devi dire molte cose e quindi ti lascio cominciare. A te la parola. Sì, è vero. È particolarmente interessante, come tu hai detto, ma è anche particolarmente persuasivo. Un nostro amico ha fatto un sondaggio intervistando diverse centinaia di giovani, adolescenti, ventenni e nel sondaggio ha chiesto qual è la prova più convincente. Credi nell'evoluzione o nella creazione? Essi rispondevano all'evoluzione perché quasi tutti credono così. Qual è la prova più convincente dell'evoluzione? La prova più convincente a proposito dell'evoluzione è che dimostra che provieni dalle scimmie e non da Adamo. E hanno risposto così. Hanno parlato della transizione delle scimmie. Questo credono. Ma ti faccio notare che anche tra gli scienziati evoluzionisti che studiano i fossili originali, alcuni direbbero che questo è un primate, quest'altro è un primate, questo è un primate. Ma questo è un essere umano e anche quest'altro. Bene. Quindi non abbiamo una progressione graduale che mostri un'evoluzione progressiva, ma abbiamo dei generi distinti. Categorie. Categorie distinti, sì. Ovviamente questo conferma la creazione come descritta è in Genesi. Quindi penso che questo dovremmo fare. Perché troppi di noi nelle chiese, noi che crediamo nella Bibbia, consideriamo la storia di Adamo. Vediamo la genealogia e affermiamo che discendiamo da Adamo, che venne da Dio. Ma diciamo anche che gli scienziati hanno mostrato che discendiamo dalle scimmie. Ma gli scienziati hanno realmente mostrato tutto questo? Che cosa hanno mostrato? Osserviamo alcune evidenze che gli scienziati secolari hanno mostrato. Eccellente. Le metteremo in categorie. Abbiamo tre categorie che cattureranno quelli che sono considerati gli uomini scimmia. E scopriremo che nessuna di queste tre categorie uguagliano l'evoluzione. Tutte e tre uguagliano le tendenze alla creazione. Diamo un'occhiata a quattro esempi. Abbiamo qui Ida, Lucy, Homo habilis e Neandertal. Consideriamo questi quattro esempi per vedere come entrano a far parte di queste tre categorie. Cominciamo con Ida. Non so se ricordi, ma nel 2009 di Ida se ne parlava ovunque. A maggio, quella primavera, si parlava solo di questo. C'erano programmi televisivi, i giornali ne parlavano. Ida, il link mancante nell'evoluzione dell'uomo. Ecco Ida. Wow. Questa piccola creatura ci mostrerà il nostro link, cioè il nostro collegamento al resto dei mammiferi attraverso l'evoluzione. Tutte queste cose venivano dette. Questa foto resterà nei libri di scuola per i prossimi cento anni, illustrando i nostri antenati provenienti dalle scimmie. Ora, dimmi cosa vuol dire link o collegamento mancante. Fondamentalmente abbiamo una creatura simile alle scimmie e poi abbiamo esseri umani. Si tratta di qualcosa che essi non riescono a spiegare. Ma come si può passare da una specie all'altra? Quindi stanno cercando un anello mancante che possa unire. Stanno cercando un anello di collegamento, un link che non c'è. Una creatura che abbia parzialmente qualche aspetto legato alle scimmie e qualche altro legato all'uomo. Quindi che sia quasi umano o che stia diventando umano. E vediamo queste frasi nelle riviste secolari. Ma non c'è un solo fossile che spieghi la frase. Indiscutibile perché per ogni paleontologo che dice questo potrebbe essere il collegamento mancante. Ce n'è un altro, sempre evoluzionista, che dice penso che è una via senza uscita. Non è un collegamento mancante. Bene. Quindi è proprio quello che vediamo. Proprio quello che vediamo nel mondo d'oggi. Trovato il collegamento mancante. Il collegamento tra gli esseri umani e i lemuri. Ecco un lemure oggi. Sai cos'è un lemure? Certo. Sono divertenti, un po' strani, ma osserva le zampe del lemure. Ora, questa è la foto del fossile Ida. Le zampe del fossile Ida sono così, molto simili. Indovina un po'. È un lemure. Ora, circa i lemuri viventi. Nessuno ha detto che manca qualche link. Ma indovina un po'. Nell'autunno dello stesso anno, il 2009, controversia del fossile Ida. Non è un link mancante. Quindi la verità viene a galla. Ma non hanno fatto alcuno special sul perché Ida non è l'anello mancante. Sì, hanno messo insieme un bel documentario sugli anelli mancanti. Sì, ma... Ma non lo ritirano. No, no. Ecco, ecco, queste sono le cose che ho trovato. Scricchiolio delle ossa smaschera la montatura del fossile della prima scimmia. Quindi, Ida se ne va. Ciao, ciao, Ida. Perché Ida, quindi, non è assolutamente un anello mancante. Quindi, cancellare. Ida è un lemure. Certo. Quindi la prima categoria diventa un animale, diciamo così, estinto. E quindi, nessuna paura. I cristiani non devono temere nessuno di questi titoli, perché tutte le notizie delle prime pagine che dicono, scoperto l'anello mancante. Aspettate, in pochi mesi vedrete che daranno notizia che non era un anello mancante. Però non sarà sulla copertina. Sì, e a volte ci vogliono più di trent'anni per alcune di queste affinché vengano scoperte. Ah, non abbiamo avuto tutta la verità. Sì, nel passato. Oggi il dietrofront richiede molto meno tempo, ma nell'Ottocento e nel 1900 era un dietrofront molto più lento. Ora, consideriamo Lucy, la più famosa. Credo si trovi ancora nei libri di testo. Anche se gli evoluzionisti secolari non considerano Lucy, la sua razza, Homo habilis, essere parte dell'evoluzione che ha portato all'uomo. Vediamo Lucy, dicono che questa creatura fossilizzata aveva una schiena simile a quella dell'uomo. Sai, le nostre schiene sono curvate e questo ci aiuta a camminare e a correre. Abbiamo due meccanismi. Tu sei un essere umano, ha due meccanismi. Potrebbe aver avuto un bacino, dei piedi, anche delle ginocchia come un essere umano. Mentre il teschio invece è simile a quello delle scimmie. Quindi, avrebbe avuto queste parti simili a quelle dell'uomo e questo è quello che l'ha fatta diventare umano. Ecco cosa dicono i libri di testo. Adesso osserviamo però i dettagli. I dettagli mostrano quanto somigli alla scimmia. Le orecchie, le ossa, le vertebre lombari, la forma della schiena non c'è. Le vertebre non ci sono. Il bacino è stato fabbricato. Dico fabbricato. Quindi è difficile farlo identico al bacino originale perché essi mettono insieme in questi pezzi perché erano resti frantumati. Erano frantumati e possono metterli insieme in qualsiasi modo ritengono opportuno. Hanno dei margini, ovviamente. Poi le dita dei piedi sono curvate, come le dita delle scimmie. Sai, le scimmie hanno i piedi come le mani. Le ossa sono curvate. Così possono afferrare i rami degli alberi. Ecco come era l'ursi. La stessa cosa per quanto riguarda le dita della mano. Le nostre dita sono diritte, vedi? Quest'osso va diritto, questo pure. Possiamo fare molte cose con le nostre mani, ma loro sono più bravi ad afferrare i rami degli alberi. Così era l'ursi. Quindi l'ursi non era come gli esseri umani e le sue mani non erano come quelle degli uomini. No, no, no. Le giunture delle ginocchia erano troppo lontane. Allora, questo è il fossil. Dunque, se questa storia dell'evoluzione è vera, dove dovremmo aspettarci la presenza di questi fossili? Ci aspettiamo che forse le tracce di Lucy siano sotto i fossili di Lucy, l'evidenza di Lucy, e poi dopo milioni di anni di evoluzione ci aspettiamo gli esseri umani sopra. Ma indovina cosa hanno scoperto? L'evidenza mostra che non c'è ordine. Quindi ecco le orme di Lucy. Scusa, sono le orme umane. Orme umane. Sono orme umane fossilizzate. Ma la chiave, quello che voglio mostrare, è che queste orme appaiono in strati che essi designano come... Questo mostra semplicemente che sono umani. Ok. Forti bipedi utilizzati da persone moderne. Impronte di piedi umane in questi strati. Dove dovrebbero essere? Queste impronte sono? Sono lì. Lì. Nello strato di Lucy. Sì. Insomma, quello che dicono che sia... Quindi non dovrebbe esserci stato alcun essere umano negli strati sottostanti se l'evoluzione fosse corretta. Ma cosa hanno detto a riguardo? Lucy aveva dei piedi umani. Oh, wow. Quindi questa è la loro conclusione. Questa è l'informazione, ma è stata guidata da questa idea, da questo paradigma dell'evoluzione. Quindi ci sono delle impronte umane laggiù, fuori luogo. Ok. Recentemente hanno scoperto anche un osso di un piede. Eccolo, è un osso di un piede. Hanno fatto molte analisi. Osserva, osserva questi dati. L'angolo nel quale l'osso si collega all'altro osso, la grandezza, la lunghezza, il diametro, tutti questi parametri, tutti misurati. E hanno scoperto che questa è la forma di uno scimpanzé. Quella di un gorilla. Ed ecco la forma umana. Quello che hanno trovato è la barra nera. Questa qui. Corrisponde a quella umana. È il metatarso del piede umano. In quale strato è stato ritrovato? Giù, nello strato di Lucy. Quindi dovremmo smetterla di chiamare questo strato Lucy e chiamarli strati umani. Ci sono resti umani attraverso tutti gli strati. Non solo. Hanno ritrovato le ossa di Lucy anche qui sopra. Ok, totalmente fuori ovo. Completamente all'opposto. Quindi fondamentalmente abbiamo un lemure. Abbiamo una creatura simile a uno scimpanzé del tipo Bonobo che potrebbe trattarsi di Lucy. A questo punto direi di guardare un videoclip. Poi torneremo in studio per fare un riassunto. Tutti sentono dire che il genoma dello scimpanzé è per il 98-99% simile all'essere umano. Ma cosa vuol dire? Questa è un'area nella quale sto facendo delle ricerche negli ultimi 4 anni. E quello che ho scoperto è che queste stime sono fondate su segmenti di DNA isolati che noi e gli scimpanzé siamo molto simili. Non è basato su un intero genoma. Per esempio, molto del DNA che è probabilmente lo stesso negli scimpanzé e nelle persone sarebbe per metabolizzare il cibo, respirare l'aria. Noi lo identifichiamo come fisiologia respiratoria. Tutti i processi che non solo gli scimpanzé e le persone hanno, ma che sono presenti anche nei topi, nei ratti e in tutti gli altri vertebrati del mondo. Tutti noi dobbiamo digerire il cibo, respirare la stessa aria, bere la stessa acqua. Pertanto, molto del materiale genetico deve necessariamente essere lo stesso. Prima abbiamo fatto la sequenza del genoma umano. Ci è voluto molto tempo e ci sono voluti molti soldi. L'analogia che mi piace usare è quella di un puzzle gigantesco, perché quando fai la sequenza del DNA umano non ottieni 3 miliardi di basi insieme in un solo strato e tutto viene messo insieme. Ma è come mettere insieme un puzzle senza avere un'immagine da seguire. Non sai l'immagine che ne verrà e quando sono andati a vedere il genoma dello scimpanzé per risparmiare tempo e denaro basandosi su supposizioni dell'evoluzione, cioè che gli umani e gli scimpanzé condividano un antenato comune, hanno semplicemente preso il DNA umano come uno sfondo, come un'impalcatura e poi hanno allineato il DNA degli scimpanzé. Ora, è veramente questo il modo che il DNA degli scimpanzé viene unito? Noi non lo sappiamo e quindi non ci sono evidenze che sostengono che gli esseri umani e gli scimpanzé hanno un unico antenato. Nessuna evidenza che lo sostiene, quindi fondamentalmente abbiamo gli scimpanzé e gli esseri umani. E cosa abbiamo qui? Questa è una citazione di un evoluzionista che dice, considerando Lucy, sono solo scimmie. Sono solo scimmie. È la razza di Lucy, Australopiteco. Quindi la prima categoria era una razza estinta. Animali, oh scusa, questo è un altro esempio. Un'altra categoria. Sì, quindi Lucy è un animale estinto, non un essere umano, neanche quasi umano, ma un animale che viveva tra gli alberi e oggi è estinto, alto un metro e venti centimetri e molto simile agli scimpanzé. Molto simile agli scimpanzé. Vediamo l'estinzione degli animali molto spesso e questo non è nulla di strano. Dovremmo aspettarci di trovare animali nei resti di fossili e che oggi sono estinti. Penso di sì. Ok. Quindi adesso consideriamo l'Homo habilis. Homo habilis. Quindi Ida è un animale estinto, Lucy è un animale estinto. Penso che l'Homo habilis sarà una seconda categoria, ma devo... Guarda gli occhi. Nota gli occhi di questa riproduzione esposta in un museo. Che cosa pensi di questi occhi? Sono simili a quelli degli esseri umani. Simili agli occhi degli esseri umani. I fossili preservano i bulbi oculari? No. Preservano il bianco degli occhi? No. Quindi... Sulla destra puoi vedere gli occhi di un gorilla. Si vede il bianco degli occhi? No. Quindi? Quindi? Queste sono tutte rappresentazioni. Rappresentazioni. Rappresentazioni fatte dall'uomo. Ed ecco la citazione dell'uomo che ha fatto queste rappresentazioni. John Gurch dice... Abbiamo voluto mettere un'anima umana in queste creature affinché potessi dare alle persone un senso della loro evoluzione, la direzione che hanno presa verso l'evoluzione nell'essere umano. È molto persuasivo. Non c'è da meravigliarsi quando chiediamo alle persone qual è l'evidenza più persuasiva circa l'evoluzione ed essi considerano questo. Ma sai una cosa? È tutta un'invenzione. È tutto tratto dal nulla. Non ci sono fossili che confermino che nei loro occhi c'era il bianco. Solo gli esseri umani ce l'hanno, perché noi lo usiamo per comunicare, in modi che le scimmie non comunicano. No. Certo. Perché noi siamo fatti a immagine di Dio. Questa è la mia interpretazione sul bianco degli occhi. Mi piace. Va bene. Ecco come sarebbe potuto essere Lucy anatomicamente, semplicemente simile a una scimmia, ma è estinta. Parliamo però dell'altra categoria, quella dell'uomo habilis. Eccoci a osservare la stessa replica. Si tratta del teschio KNMER 1470. Posso vederla? Certo, certo. Sì, sì, grazie. Questa non è quell'originale. È una riproduzione. È una riproduzione. Molto pesante. Sì, veramente. Sì. Quando questo teschio fu presentato, fu considerato l'anello mancante, proprio come l'è stato Ida, ora non l'è più. L'uomo habilis era considerato l'anello di congiunzione mancante, ora non più. No, è più piccola della tua testa. Dunque, la gente non sa una cosa, cioè che questo teschio consiste di diverse parti minuscole, di ossa appartenenti ad almeno tre o cinque individui diversi. E ora non sappiamo se questi facessero parte della stessa specie. Non lo sappiamo. Probabilmente erano di diverse specie, sicuramente diversi individui, ed erano in diversi strati di roccia. Un'interpretazione delle persone che hanno messo tutto questo insieme. Ok. Sono stati uniti almeno tre o quattro individui diversi, diverse specie, probabilmente, ed è un soggetto di un costante cambiamento del nome che è un altro tema da dover affrontare. E ci chiediamo fondamentalmente, ma questo è tutto? È vero. Tutta l'evidenza è questa? Questo invece è molto simile ad una scimmia, ma chi sa di che cosa è costituito? Anche gli antropologi secolari a volte dicono il teschio 1470 è un caos e non è attendibile. Ma un tempo era considerato nella mancante, ora è un'evidenza negativa, non ne vogliono parlare. Non ci sono neanche abbastanza dati? No, non ci sono abbastanza dati. Bene, adesso vediamo un altro videoclip che abbiamo, perché vedremo come l'evoluzione non funziona e vedremo che noi siamo molto speciali, che siamo creati a immagine di Dio. Una delle dichiarazioni più antiche riguarda i personaggi della Bibbia e si trova in Genesi 1, 26. Quindi Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio li creò. Li creò maschio e femmina. Dio mise Adamo ed Eva sulla terra per far sì che potessero gestire la sua proprietà e per avere dominio. Le piante, gli animali sono stati dati a noi, quindi Dio ha messo l'uomo e la donna nella forma che oggi essi hanno nel giardino dell'Edani, il sesto giorno della sua creazione, come dice Genesi, oppure ci siamo evoluti nel giro di milioni di anni. Le nostre forme di vita sono improvvisamente venute all'esistenza da una zuppa primordiale? Beh, osserviamo più da vicino queste domande, considerando alcuni dei problemi della teoria dell'evoluzione. Ci sono tre punti da ricordare quando parliamo dell'evoluzione. Il primo punto è che nessuno dei passi principali dell'evoluzione è mai stato ricapitolato in laboratorio. Quindi, se parliamo del soggetto dalla non vita alla vita, oppure di quella prima molecola che diventa una prima cellula, oppure di quelle cellule batteriche che diventano una cellula animale, della singola cellula che diventa una creatura multicellulare, o della medusa che diventa una creatura con una spina dorsale, e di un pesce che diventa un animale terreno, beh, nessuno di questi esempi è mai stato ricapitolato in laboratorio. Il secondo punto è che l'evoluzione accade troppo lentamente affinché si possa osservare, questo viene ammesso anche dagli evoluzionisti, quindi stiamo parlando dell'essenza dell'evoluzione, quello che propose Darwin, cioè che gli esseri umani discendono da qualche forma di scimmia. Non possiamo osservare nessun cambiamento del genere. Stiamo parlando di ipotesi sul passato, non stiamo parlando di osservazioni chiare nel presente, ma possiamo osservare soltanto cambiamenti minuti, quindi questa era l'immagine del secondo punto. Il terzo punto, Darwin ci ha fornito il modo di come esaminare l'evoluzione e gli ha detto, se qualcuno potesse dimostrare che qualsiasi organo complesso sia veramente esistito e che non può essere strutturato da piccole e numerose modifiche successive, la mia teoria si schianterebbe senza alcun dubbio. Sta dicendo, sto cercando di spiegare la vita e se trovate qualche cosa, qualche specie, qualche parte di una specie esistente che non puoi mettere insieme un pezzettino alla volta, allora la mia teoria è un fallimento. Quello che c'è in una cellula è altamente interdipendente, complesso. Se rimuovi un componente, il sistema collassa, non puoi far evolvere una cellula. La cellula stessa è responsabile della vita sul pianeta, quindi, scritto direttamente da Darwin, l'evoluzione dovrebbe essere rigettata. Mi piacciono questi videoclip di Unlocking the Mysteries in Genesis. Sarebbe una collezione di una serie di 12 DVD che la ICRS ha pubblicato, perché rende così facile comprendere questi principi così complessi. Ma è quello che abbiamo visto fondamentalmente. Abbiamo degli animali estinti, animali estinti, animali estinti, scimmie e tutte queste cose che tu reputi invalide. Non lo dico io, sono gli evoluzionisti che lo stanno dicendo. È invalido, perché non c'è abbastanza informazione, quindi è una specie di caos. E cos'altro abbiamo? Abbiamo considerato due esempi. Qual è il prossimo? Probabilmente ci sono otto componenti in esso, quindi rappresentano un tipo di scimmia estinto, ma non sappiamo, non possiamo giudicare sulla base delle informazioni scarse che abbiamo. È invalido come categoria, animali estinti, invalido. Poi arriviamo a Neandertal, che sarebbe la terza categoria. Ho avuto questa foto dal museo di Chicago e c'era una bambina davanti a me che lo guardava. Le ho detto, sai, se metti un vestito a quest'uomo, è molto realistico, no? Se gli metti un vestito, gli tagli i capelli, gli fai la barba, può senza dubbio camminare per le strade di Chicago senza essere osservato. Lei ha risposto, sì, vero. Ha avuto una bella reazione. I Neandertal sono umani. Avevano un sembiante un po' diverso rispetto alla maggior parte degli esseri umani di oggi. Loro si sposavano, potevano cucinare, potevano creare gioielli, seppellivano i loro morti. Sono quindi sovrapponibili agli esseri umani moderni. Pertanto si tratterebbe di una varietà estinta di esseri umani. Quindi i loro gene, la loro struttura genetica, erano simili. Questo è uno dei miei articoli che illustra che questa scienza del DNA, il DNA dell'uomo di Neandertal, conferma che costoro erano esseri umani. Quindi ci sono tre categorie. Scimmie estinte, invalido, esseri umani antichi. Quindi, dove è l'evoluzione in tutto questo? Non c'è. Quindi noi non siamo proceduti dai primati, dalle scimmie. Siamo stati creati separatamente e distintamente dalle scimmie. Ora, in tretta secondi, dimmi perché è importante che noi siamo stati creati distintamente dalle scimmie? Beh, allora, come discendenti di Adamo, significa che siamo responsabili di fronte al Dio che creò Adamo. Quindi abbiamo una responsabilità. Se invece procedessimo dalle scimmie, beh, allora ci siamo evoluti attraverso dei processi naturali e non abbiamo più responsabilità se facciamo qualcosa di sbagliato. Ma siccome siamo responsabili delle nostre azioni davanti al Creatore, dobbiamo scoprire chi Egli è, perché siamo su questo pianeta e perché ci ha posto qui. E Lui ci ha dato le risposte in quel libro. In questo libro di istruzioni. Grazie, Brian, per essere stato con noi. Grazie a te. Quindi abbiamo scoperto che gli esseri umani sono stati sempre distinti dalle scimmie, fisicamente, mentalmente, moralmente. Ma più di tutto questo è che noi siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio. Siamo fatti in modo meraviglioso. Possiamo conoscere il nostro Creatore personalmente attraverso Gesù Cristo. Proprio come la Bibbia è vera quando ci parla della creazione dell'uomo nel principio, la Bibbia è altrettanto vera quando ci dà il Vangelo. Tutta la Bibbia è stata messa insieme con le sue promesse di nuovi cieli e nuova terra per coloro che hanno fiducia in Lui. Sono David Rives. Ci vediamo alla prossima puntata e continuate a guardare in alto. Veramente i cieli dichiarano la gloria di Dio.